La speranza è l'ultima a morire, afferma questa mattina un tifoso del Napoli che ancora spera in un moto di rivalza da parte degli azzurri che ieri hanno perso punti fondamentali per la Corsa Champions con il Cagliare che ha guantato il pareggio negli ultimi istanti di una partita che solo un guizzo di Osimena era riuscita a ratrizzare. La colpa oggi non è più degli allenatori, ben tre dall'inizio di stagione, i tifosi sono certi, sono i giocatori ad avere la responsabilità di un'annata disastrosa che rischia di chiudersi senza andare in Europa. Si sperava in Calzona che dava un po' di scossa a questa squadra, ormai è il terzo allenatore che cambiamo, dunque secondo me la colpa è ormai dei giocatori che giocano senza grinta, senza volontà, scarsa attenzione, dunque non è più il problema allenatore ma secondo me è il problema giocatore. Cioè vedere una squadra che fino a qualche mese fa faceva meraviglia, vederla giocare così veramente disarmante, cioè non c'è una spiegazione. È il terzo allenatore che cambiamo, cioè quindi ora senza più alibi era Garzia e abbiamo mandato Garzia, Mazzarri abbiamo mandato Mazzarri, oggi c'è un altro allenatore che ha preso il presidente dell'Aurentis e diciamo i giocatori giocano sempre allo stesso modo. Era già finito, ormai è tutto un copione da bruciare, da De Laurentiis a Garzia, a Mazzarri, a Calzona e anche a tutti i resti dei calciatori perché i calciatori anche loro hanno le loro colpe. La speranza è l'ultima a morire, ma secondo me stiamo a morire, ma prima non è la speranza, secondo me. Quest'anno il Napoli è così, è una sofferenza, però una cosa la voglio dire, il Napoli mi sta aiutando tantissimo quest'anno. Perché prima non dormivo, ma a meno mi addormento quando mi è partito. Forza Napoli! Grazie! Grazie!